Miglianico-Martin Sicuro è la partita da non sbagliare per i padroni di casa, impelagati nella zona play-out e senza vittoria da sei turni. Dall'altra parte il Martin Sicuro con quattro punti in classifica ed una situazione ormai nota. Vuole onorare al meglio il campionato di eccellenza. Fischia da Damo di Vasto, primi minuti bloccati con il Miglianico che gestisce le operazioni per captare eventuali punti deboli dell'avversario. Al diciassettesimo Di Muzio pennella sul secondo palo dove Di Moia da due passi cestina mandando a lato una clamorosa palla goal. Due giri di lancette dopo Pizzi arriva tu per tu con Cannella che lo ipnotizza mandando il pallone in calcio d'angolo. Preme il Miglianico ma il Martin Sicuro come può si fa vedere dalle parti di Rosano che deve impegnarsi sulla botta dai 30 metri di Farinelli. Al ventisettesimo la squadra di Mister Tacchi passa in vantaggio con la rete di Manuel Di Muzio che di testa anticipa tutti e batte Cannella. Risposta del Martin Sicuro affidata al destro di Malavolta, vole che si spegne sul fondo. Col passare dei minuti il vantaggio fortifica psicologicamente i padroni di casa. Polisena ruba palla al neo entrato Franco ma deve fare i conti con Cannella. Ad una manciata di secondi dall'intervallo il 2-0 si concretizza con il primo centro in eccellenza per Gabriele Di Moia. Prodotto del settore giovanile, leggera ma evidente deviazione che spiazza il portiere. C'è tempo anche per una gran parata distinto di Cannella sul solito Di Muzio. In forma smagliante il numero 9 che non fa rimpiangere Orta in panchina non ancora al 100%. Nella ripresa subito Alex Biagetti, Rosano blocca il pericolo del 2-1 e dall'altra parte immancabilmente il Tris lo piazza al settimo Antonio Polisena che raccoglie l'assist di Mennillo, un freccia rossa sulla fascia destra, ottavo centro in campionato per il numero 11. Non è finita perché Di Muzio si mette in proprio e a tu per tu con Cannella non perdona. 4-0 Miglianico è partita, virtualmente chiusa con i padroni di casa ancora pericolosi. Caniglia da pochi metri manda fuori, rallenta il ritmo della gara, non quello sugli spalti con una prova superlativa anche dei tifosi e sostenitori del Miglianico. In campo il Martinsicuro ci crede fino all'ultimo e beneficia di un calcio di rigore al 41esimo. Dal dischetto Palladini calcia bene, Rosano fa meglio e vola per mettere in lucchetta la sua porta. Nel finale la coppia Polisena di Muzio fa ancora vedere qualcosa di importante ma in entrambe le circostanze il pallone termina fuori. 4-0 e gara agli archivi. Fa quello che può il Martinsicuro che con una formazione di ragazzi si arrende alla forza degli avversari. Il Miglianico si gode la prima vittoria del 2019 ed è un punto di partenza con un pubblico d'applausi. No, quello sempre, questi ragazzi ogni domenica la prestazione la fanno sempre. Oggi, anche oggi per tutto il primo tempo abbiamo fatto, secondo me, una grande partita. Poi purtroppo paghiamo le nostre ingenuità che ci stanno perché in questa squadra così giovane ogni domenica accade questo. A me dispiace per loro perché per l'impegno che mettono e per la voglia che hanno io dico sempre se riuscissero a sbagliare meno sicuramente arriveremo a fare quel risultato ma non tanto per la classifica in sé per sé o per qualcosa di diverso, solamente per loro perché se lo meritano per tutto quello che fanno. Gabriele Di Moia, un prodotto del settore giovanile del Miglianico, oggi una vittoria importantissima, è inutile nasconderla. Certamente, una vittoria veramente che dà morale e dà forza per l'inizio del nostro campionato, come ha detto anche il mister. Siamo contenti della vittoria e del pubblico che ci ha dato una mano dagli spalti. Se non sbagli, è il tuo primo gol in eccellenza con la maglia del Miglianico, che emozione è stata anche vedere il pubblico esultare al tuo gol, oggi veramente numeroso e caldo. Sì, è il primo gol in eccellenza e sono veramente contento, è dedicato alla famiglia e ai più cari che mi stanno sempre vicino.